Il bolognese, appartiene al gruppo 9, è un grazioso cane da compagnia, però lungo e riccioluto. I maschi sono alti dai 27 ai 30 cm algarrese, mentre le femmine sono alte dai 25 ai 28 cm algarrese. Il peso del bolognese si aggira tra i 2,5 e i 4 kg. La sua origine è misteriosa, si sa solo che è un cane antichissimo e che ha preso il nome dalla città di Bologna, dove era molto diffuso. Se ne hanno notizie già dal rinascimento, è un formidabile cane da compagnia, un carattere dolce, ama profondamente il padrone e la sua famiglia. È sempre di buon umore, vivace se invitato a giocare, diventa tranquillissimo se si accorge che il padrone in quel momento non ha tempo per lui, ha un temperamento posato e riflessivo, ciò lo rende perfetto anche per le persone anziane, in più, essendo molto piccolo, non ha bisogno di fare un modo eccessivo. È facilissimo da educare e addestrare, molto pulito e con un'intelligenza superiore alla media, il suo attaccamento morboso alla famiglia ne fa un ottimo guardiano avvisatore, vive in media 12-14 anni, in sintesi il bolognese è un cane tutto da scoprire che meriterebbe una diffusione molto più ampia, perché non ha niente da invidiare a tanti suoi colleghi di moda oggi.